Musica Parte da oggi, giovedì 4 luglio, fino a sabato 6 luglio, il divieto per le utenze domestiche e non domestiche di conferimento della frazione organica umida provenienti dalla raccolta differenziata. Con un'apposita ordinanza, precisamente la numero 246, il sindaco di Cava dei Tirreni, Vincenzo Servalli, ha comunicato a tutti i cittadini metelliani che i conferimenti dei rifiuti riprenderanno regolarmente nel rispetto di quanto previsto nei calendari di ciascuna area territoriale, domenica 7 luglio. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della comunicazione da parte degli impianti di smaltimento e stoccaggio, della saturazione dei siti e quindi dell'impossibilità del prelievo da parte della metellia servizi. Ed intanto continua la lotta contro l'abbandono selvaggio di rifiuti di ogni genere sulle strade cavesi. Questa la situazione registrata qualche giorno fa in via Santi 40 ed ancora conferimenti irregolari di rifiuti ingombranti in località contrapone. Gli scatti sono dello scorso 18 giugno, ma la battaglia contro gli incivili è ancora in atto e tutti gli organi competenti raccomandano la cittadinanza di usufruire delle isole ecologiche e degli appositi calendari per un corretto conferimento dei rifiuti al fine di migliorare la qualità della vita e di incrementare, perché no, il risparmio sulle bollette.